Il termolaser Quello non è slato, quello è... Ruff Wow È assurdo, non è possibile Robin, perché fai questo? Ehi, che cosa ti dice la testa? Non una parola, Robin Loro non sono più tuoi amici Che stai facendo? Robin Eccellente, Robin Mi compiaccio Hai appena dimostrato di essere l'apprendista perfetto Questo fatto non può durare per sempre Si che può e durerà I Titans ancora non sanno che il mio detonatore cronotronico era più di un'esca Ora che le mie sonde sono dentro i loro corpi potrebbero restare lì per decenni A meno che ovviamente tu non mi disobbedisca e io decida di distruggere i tuoi ex amici Con una pressione del pulsante Presto o tardi farai un errore, abbasserai la guardia e io mi impossesserò di quel dispositivo E quando i Titans saranno fuori pericolo allora te la farò pagare Suona come una minaccia, mio giovane amico Una bella minaccia, devo dire Tradimento, distruzione, vendetta Abbiamo davvero lo stesso modo di pensare? Ho monitorizzato i tuoi segni vitali durante la missione Accelerazione del battito, adrenalina, endorfine Non l'ammetterai, ma ad un certo livello rubare per me ti è piaciuto È stato emozionante, non è vero? Tu continuerai a rubare Robin E continuerai a provare quell'emozione E prima o poi vedrai le cose dal mio punto di vista Chissà, potrei persino diventare come un padre per te Se è per questo ce l'ho già un padre